Se ci siamo io comincerei. La Commissione è oggi convocata per lo svolgimento di un'audizione informale di rappresentanti del Lancia nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 1266, Speranza, recante modifiche al Decreto Legislativo 9 aprile 2008, numero 81, e altre disposizioni concernenti la vigilanza in materia di sicurezza sul lavoro e la determinazione dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Avverto che essendone stata fatta richiesta, l'audizione informale odierna sarà trasmessa mediante Web TV e sensi del parere della Giunta per il regolamento del 26 giugno 2013, a condizione che vi sia il consenso da parte degli interessati. Non essendovi obiezioni, dispongo che la pubblicità dei lavori sia assicurata mediante la Web TV della Camera dei Deputati. Nel ringraziare i nostri ospiti per la loro disponibilità, segnalo che la delegazione è composta da Marco Garantola, Vicepresidente Relazioni Industriali e Affari Sociali, Stefania Di Vecchio, dirigente responsabile Ufficio Rapporti con il Parlamento, Paolo Castellano, funzionario della Direzione Relazioni Industriali, Francesca Ferrocci, funzionario della Direzione Relazioni Industriali. Ricordo che la relazione potrà avere una durata di circa 7 minuti, in modo da lasciare spazio per eventuali quesiti dei deputati e per la replica. Cedo la parola a Marco Garantola. Buongiorno e grazie di averci invitato e di aver la pazienza di ascoltarci un attimo. Poi tecnicamente il Dottor Castellano spiegherà le motivazioni e tutto quanto abbiamo scritto e preparato per questa audizione. Il Dottor Castellano fondamentale per noi è questo, su cosa puntiamo con il discorso di una riduzione dei premi? Puntiamo ad ottenere una premialità verso le imprese corrette. Non nascondo la situazione dell'edilizia e quindi noi puntiamo che tutti quelli che ottengano delle riduzioni non siano delle riduzioni automatiche ma siano delle riduzioni dovute all'impegno che mettono le imprese, che mettono il nostro sistema bilaterale perché la ricchezza un po' nostra è anche il sistema bilaterale che purtroppo ogni tanto scricchiola ma comunque è sempre ben attivo e presente sui posti di lavoro. Noi abbiamo un sistema di formazione, abbiamo un sistema di controllo della sicurezza con i CPT con dei tecnici che gratuitamente vanno in cantiere, fanno consulenza, aiutano le imprese a svolgere questo. Quindi tutte queste operazioni che abbiamo fatto, tutte queste cose che stiamo facendo devono servire per avere una riduzione del premio perché giustamente l'Inail è anche un'assicurazione e quindi ha anche un problema di rimborsi che deve fare. Una cosa importante che noi abbiamo fatto e che insieme all'Uni abbiamo portato avanti è l'asseverazione e siccome l'asseverazione adesso è diventata norma, io allora facevo il presidente della CNCPT e abbiamo portato avanti con l'Uni questa operazione, direi che oggi il problema grosso è la difficoltà di spingere questa asseverazione attraverso le imprese, soprattutto le imprese medio-piccole perché le imprese di una certa dimensione, adesso siamo riusciti a farla diventare norma adesso stiamo lavorando ancora per vedere di semplificare in modo da avvicinare più gente al sistema dell'asseverazione. Quando otterremo un grande parolone, un numero importante di imprese che hanno un sistema di gestione della sicurezza asseverato, direi che abbiamo fatto veramente un grande passo avanti perché poi un difetto che abbiamo e che adesso stiamo cercando di migliorare e anche che i dati l'INAI ce li comunica l'anno dopo, due anni dopo, quindi non abbiamo un sistema adesso attraverso il sistema dei CPT stiamo cercando di aggiornare e di avere l'andamento infortunistico attraverso un sistema di controllo che facciamo noi, che è un controllo ovviamente, un controllo interno non è un controllo di tipo, perché questo è dovuto ad altri, una visione più generale del nostro sistema e questo io penso che l'impegno che lancia il sistema bilaterale col sindacato perché col sindacato lavoriamo in maniera costante e anche proficua perché effettivamente questo sistema io quando vado in Confindustria una delle poche cose che mi invidiano è il sistema bilaterale poi per il resto in Confindustria sono forse il vicepresidente povero passatemi il termine ma in Confindustria sono il vicepresidente povero perché forse ci considerano sempre industria e quindi può darsi che sia anche quello però oggettivamente noi puntiamo su questo adesso io tecnicamente lo T24, tutte queste cose adesso poi il dottor Castellano spiegherà le motivazioni che ci hanno portato a scrivere questo documento e quindi tecnicamente lascio la parola a lui però è fondamentale e la trasmissione che quello che io voglio trasmettere a voi, a questa commissione è proprio il fatto di dire il sistema nostro si impegna però vogliamo premiare quelli che meritano non tutti indiscriminatamente poi la riduzione che c'è stata nel sistema cioè tutte le varie forme con cui si cerca di arrivare è chiaro che è compito dal legislatore, è compito vostro però noi puntiamo per avere sempre imprese più corrette e che sul mercato ci stiano non solo perché esistono delle regole specifiche ma perché veramente si impegnano a voler fare un lavoro sulla sicurezza veramente importante grazie buongiorno, grazie per l'invito innanzitutto e per questa occasione di confronto sulla proposta di legge come diceva il Vice Presidente Garantola rispetto a quelle che sono diciamo le nostre indicazioni tecniche osservazioni tecniche proprio regganciandomi subito a quel discorso della premialità INAIL quindi faccio un salto un bypass articolo 1, 2 e 3 e vado al 4 che è quello che probabilmente ci sta creando qualche dubbio e qualche riserva non tanto nel dettato, nell'articolato perché si parla in maniera esplicita di una premialità aggiuntiva quanto piuttosto di quello che c'è scritto nella relazione tecnica di accompagno della norma sembra in antitesi rispetto a questa indicazione questo aspetto della relazione tecnica dove si va a indicare che l'attuale sistema OT24 cioè quello che adesso adottano le imprese dovrà essere disapplicato perché evidentemente sta creando diciamo così non quegli effetti auspicati nelle aziende allora ci chiediamo e questo appunto probabilmente potrebbe essere l'occasione per approfondire questo aspetto non è che oggi sì, noi la proponiamo come una premialità aggiuntiva ma finito il periodo sperimentale dei famosi tre anni che sono previsti dalla normativa a valle di questo periodo questa misura non sarà aggiuntiva e quindi parallela a quella attuale ma sarà sostitutiva di quella attuale la preoccupazione da che cosa deriva? dal fatto che l'OT24 oggi prevede delle aliquote premiali per la fascia dimensionale delle imprese fino a 50 dipendenti due aliquote più vantaggiose rispetto a quella prevista dalla proposta di legge del 15% minimo perché per la fascia dimensionale da 0 a 10 l'attuale OT24 prevede una premialità del 28% quella invece la fascia da 10 dipendenti ai 50 dipendenti del 18% quindi è oggettivamente provato che sono aliquote più vantaggiose rispetto al 15% ipotizzato dalla proposta di legge quindi ecco su questo aspetto noi abbiamo dei dubbi su quello che poi è effettivamente la razza della norma aggiuntiva è ovvio non possiamo che condividerla perché vuol dire dare alle imprese un ulteriore premio rispetto a quello attuale se fosse sostitutiva sarebbe un dramma perché non nascondiamo che gli effetti della riforma tariffaria dell'INA quella introdotta di recente dal decreto 27 febbraio 2019 non sta sortendo anche questa gli effetti auspicati io porto a testimonianza alcune imprese che ci chiamano dati alla mano oggi hanno un premio diciamo più o meno sui valori antiriforma se non peggiorativo quindi la paventata riduzione che gli organi di stampa hanno così diciamo ipotizzato del 30% oggi non si sta manifestando sul territorio quindi questo diciamo che per il settore edile glielo spiego sì poi le darò la risposta quindi ecco su questo OT24 è evidente che noi da un punto di vista tecnico condividiamo la proposta però vogliamo avere la certezza che non diventi poi una norma un articolo sostitutivo dell'attuale impianto se deve essere fatto un intervento come l'INAIL noi abbiamo sempre dei tavoli di confronto con l'Istituto come parti sociali ci invitano per chiedere e diciamo condividere anche delle proposte alternative probabilmente se questo 15% deve essere riconosciuto deve essere integrativo ovviamente rispetto alle attuali illiquote non sostitutivo quindi l'associazione è orientata su questa su questa soluzione piuttosto che sostitutivo perché questo a noi diciamo è la nostra impressione che sarà un articolo che andrà a servire un assist all'INAIL tra tre anni per diciamo abrogare la norma attuale che è disciplinata dall'articolo 23 del decreto 27 febbraio 2019 e quindi essere disciplinata all'interno di questo meccanismo proposto nella proposta di legge tornando all'articolato così brevemente perché poi ecco credo che siamo abbastanza allineati anche rispetto alle altre associazioni di categoria riguardo l'articolo 1 sicuramente ben venga il fatto che del SINP coinvolga le associazioni datoriali le associazioni di categoria nella condivisione di quelle informazioni che questo sistema informatico dovrebbe avere a livello sia infortunistico sia di dati prevenzionistici e quant'altro è ovvio che oggi posso lamentare un fatto relativamente al SINP ovvero il fatto che questo sistema ad oggi ancora non è funzionante ed è un sistema che era stato introdotto sapete bene mi sembra dall'articolo 8 del test 1 della sicurezza quindi nel 2008 e prevedeva che di lì a poco ci fosse un decreto attuativo che ne rendesse operativa e funzionale questo sistema che ad oggi purtroppo ancora non è funzionante quindi perfetto che venga estesa appunto anche all'associazione di categoria è ovvio che questo però deve essere appunto specificato che siano le associazioni di categoria comparativamente più rappresentative sul piano nazionale perché oggi lamentiamo il proliferare di molte associazioni non comparativamente o maggiormente rappresentative così come gli enti bilaterali che si insinuano nel sistema formativo e che non sono quegli enti bilaterali previsti dall'articolo 2 del test 1 della sicurezza costituiti dalle associazioni maggiormente rappresentative comparativamente più rappresentative ovviamente che sono quelli riconosciuti articolo 2 e 3 qui sarò sintetico è ovvio posso soltanto rappresentarvi quello che potrebbe essere una lamentela da parte delle aziende che peraltro già ci segnalano da diversi anni ovvero questo spartiacque quindi questa distinzione netta tra attività di controllo e attività di prevenzione tra ovviamente la prima quindi quella di controllo rimessa esclusivamente all'INL invece quella di consulenza e di assistenza direttamente rimessa esclusivamente in capo all'INAIL può andar bene da un punto di vista di semplificazione ma attenzione perché ovviamente fare questa netta distinzione potrebbe creare la mancanza di omogeneità tra le norme prevenzionistiche da una parte e quelle che sono le disposizioni sull'attività di controllo quindi oggi le imprese che cosa lamentano è il fatto che non c'è comunicazione tra gli enti e questo potrebbe accentuare questo problema molte volte le aziende mi chiamano noi l'associazione e cosa dicono è arrivata un'ispezione sono stati rilevati determinati comportamenti e questi li ha fatti un organo ispettivo che può essere o l'INL o appunto l'ispettorato del lavoro oppure l'ASL quindi l'ispettore dell'ASL e quindi ci chiedono ma non è che poi tra 10-20 giorni arriva anche l'ispettore dell'INPS o l'ispettore dell'INA a rilevare altre contestazioni quindi è perfetta l'intenzione l'articolo 2-3 da un punto di vista di semplificazione è ovvio ci dà un sistema quindi unico di attività di controllo in capo a un soggetto però questo potrebbe creare ripeto un problema sulla disimogenità scusate disimogenità tra le due diciamo normative prevenzionistica vado velocissimo sull'articolo 4 abbiamo detto articolo 5 nulla da rilevare se non il fatto che abbiamo visto che già nella legge di bilancio 2019 è stata prevista un'integrazione dell'attività ispettiva con nuove assunzioni probabilmente ecco faccio un passo indietro il provvedimento è datato la proposta è di ottobre del 2018 probabilmente non tiene conto di quelle che sono state le normative che nel frattempo sono intervenute concluse grazie allora chiedo ai commissari se intendono prego la parola all'onorevole Epifani sì intanto grazie della vostra presenza anche del vostro contributo è evidente sia dalle cose che dite sia dalle audizioni che abbiamo fatto che qui ci sono due grossi problemi attorno ai quali la proposta prova a dare qualche soluzione ma in realtà sulla quale avremmo bisogno di una riflessione un pochino più approfondita anche un po' più contemporanea il primo di questo problema è il sistema di premialità in realtà questo sistema di premialità è antico poi arriva l'ultima legge di bilancio ma già dal 2015 la rivoluzione delle tariffe 2019 la legge di stabilità siamo nella prova dell'attuazione della legge di stabilità difficile fare adesso una previsione ma l'impressione che ci sia qualcosa che non funziona e quindi potrebbe essere questa l'occasione per mettere un pochino più d'ordine su una materia sulla quale credo possiamo convenire tutti perché l'idea che bisogna trovare forme di incentivazione nei confronti delle imprese che come dire fanno correttamente gli investimenti la prevenzione l'attenzione alla sicurezza rispetto alle altre io credo che sia una norma di grande buonsenso perché in questo modo cosa aiutiamo i comportamenti virtuosi e quindi a cascata le conseguenze sul lavoro sulla vita e sugli infortuni delle persone questo è il senso del provvedimento a me parrebbe evidente ma già qui c'è un problema nel momento in cui noi facciamo un bonus malus il bonus mi è chiaro ma ci vuole anche il malus cioè riduciamo le tariffe per chi si comporta bene le ampliamo per chi si comporta male è così? chiedo la vostra su questo chiedo una risposta chiara perché questo non è un problema come dire anche per i saldi siccome poi i soldi si prendono dall'INA sono soldi che in realtà l'INA poi destina a formazione investimenti quindi il terreno è delicato non sono soldi dello Stato in senso stretto che si aggiungono sono soldi che vengono presi dal bilancio dell'INA quindi il bonus malus funziona così questo non so se è chiara la assolutamente scusi secondo questo problema dei controlli e delle diciamo così della regia di sistema ha sostanzialmente due questioni difficilmente componibili ma sulle quali bisognerebbe fare un passo in avanti il primo è il rapporto tra controlli centrali e controlli territoriali qui entriamo nell'ambito del ragionamento dell'autonomia dei poteri delle regioni perché su questo si eserce rispetto al rato nazionale il lavoro in parte l'INA e soprattutto le ASI che cosa avviene che dove funziona il sistema territoriale c'è efficienza nei controlli dove non funziona non si fa praticamente nulla oppure ancora ci sono aziende che sono controllate tre volte dall'ispettorato nazionale del lavoro dall'INEL e dall'ASL e imprese che nessuno controlla cioè quello che non so se è chiaro quello che manca è qualcuno che faccia un minimo di regia di come dei controlli che si fanno perché sarebbe utile che dopo un po' di anni tutte le imprese fossero sottoposte a un controllo almeno la maggior parte di queste se no noi abbiamo una situazione un po' strana quindi questo diciamo è il primo problema poi per quanto riguarda l'ispettorato nazionale lavoro e INA è vero qui siamo dentro Scilla e Caridi perché come oggi il sistema non funziona non si parlano non si interfacciano neanche la banca dati viene messa a disposizione quindi da una parte abbiamo l'ispettorato nazionale lavoro che ha questo compito di coordinamento e dall'altra parte l'INE separare potrebbe essere una logica ma naturalmente nell'ambito del fatto che poi cooperino perché se no o separi o non separi o integri o non separi se poi non cooperano le due massime istituzioni rispetto alla nazionale lavoro e l'INE è chiaro che il sistema non funziona io direi che queste sono diciamo le due piccole grandi questioni che bisognerebbe trovare in qualche modo attraverso questo poi vediamo in qualche modo di affrontare grazie grazie onorevole Pifani la parola all'onorevole Serracchiani grazie presidente ringrazio gli auditi mi scuso se sono arrivata con qualche minuto di ritardo ma io chiederei proprio sulla base di quello che ricordava già il collega onorevole Pifani un chiarimento su un su quanto leggo dalla memoria che ci avete fornito e che riguarda ma vorrei proprio capirla perché non riesco a capirla in termini numerici la questione della riduzione delle tariffe nel senso che noi in questa sede abbiamo affrontato già il tema della riduzione delle tariffe e lo abbiamo affrontato dall'audizione anche dell'INAIL e anche dalla lettura della stessa relazione del presidente il quale diceva che per questione di bilancio la riduzione delle tariffe del 30% è stata calcolata sul budget per la prevenzione sicurezza eccetera anche perché così funziona il bilancio dell'INAIL e così è funzionato per cui la riduzione effettivamente c'è stata ora leggo mi scuserà la presidente proprio brevemente solo un passaggio per capire che cosa si intende in termini numerici numerici leggo si reputa opportuno segnalare in questa sede che la riforma tariffaria inail nel settore edile sembrerebbe non sortire gli effetti auspicati alcune delle aziende del settore lamentano in assenza di infortuni la mancata riduzione del premio anche a fronte dell'abbassamento del valore massimo riferito ai tassi medi nazionali che è passato da 130 per mille al 110 per mille e questo è il risultato della revisione del sistema tariffario gli effetti positivi della riduzione dei tassi medi di tariffo infatti sembrerebbero essere annullati a seguito dell'abrogazione della misura agevolativa trasversale introdotta dalla legge di bilancio del 14 che terminava con l'ultimo premio del 2018 che negli ultimi cinque anni fino alla regolazione del premio con apposito decreto ha consentito un abbattimento annuale del costo del premio in misura media percentuale per il 15 per cento mi pare di capire che il combinato disposto direbbe l'avvocato tra la revisione delle tariffe che è stata fatta con il provvedimento e il venir meno di quella agevolazione che portava a una riduzione anche di circa il 15 per cento a conti fatti tirando una riga io non ho la riduzione del 30 per cento anzi in alcuni casi vado anche a pagare di più di quello che avrei pagato col vecchio regime ho compreso correttamente ecco mi spiega allora credo che questo sia anche il frutto della domanda dell'onore di Pifani mi spiega di che numeri stiamo parlando cioè secondo lei quante sono la platea delle imprese che effettivamente hanno un aumento o comunque non godono di un'effettiva riduzione anche approssimativa ovvio non le sto chiedendo l'elenco ma mi spiega perché questo meccanismo poi comporta questa distorsione diciamo così degli effetti che dovevano essere positivi della riduzione del costo del lavoro anche perché come notate voi e come avevamo sollevato noi quando abbiamo fatto l'esame della manovra di bilancio sparisce un'altra agevolazione che viceversa aveva funzionato per molti anni nella riduzione del costo del lavoro perché poi alla fine incideva quella sì sul costo del lavoro più che sul lato diciamo impresa e tra l'altro con effetti distorsivi come abbiamo visto se magari entrando nel dettaglio di questo ci spiegate un po' meglio come funziona questo calcolo grazie prego di fare domande sintetiche perché abbiamo altre audizioni ho lasciato più spazio agli auditi perché lancia naturalmente su questo tema è importante audirla onorevole Fatuzzo gradirei ringraziandovi per la presenza una risposta anche secca di due parole su quello che ritengo importante specialmente per chi rappresenta un settore che è così esposto a rischi ed infortuni e anche non poco di malattie professionali mi pare di aver capito che attualmente l'azienda che è più pericolosa paga di più il premio INAI l'azienda che non ha nessun pericolo non paga nulla io trovo scorretto questo modo di procedere riterrei che il costo di tutto quanto è necessario è indispensabile perché non si verifichino questa speranza l'abbiamo sicuramente tutti mai né infortuni sul lavoro né malattie professionali debba ricadere su tutti i lavoratori punto a capo su tutti perché io sì sono un'azienda pericolosissima ma e quelli che hanno la fortuna di lavorare o di mettere in piedi un'azienda dove non c'è nessun pericolo se la godono non trovo corretto credo che dovrebbe tutta la collettività sostenere l'onere sia dei premi che debbono essere pagati perché si possa fare qualcosa di utile contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali sia anche ovviamente soprattutto come è stato bene spiegato dai miei colleghi che si vigili sulla messa in azione di tutte le difese possibili e immaginabili grazie grazie onorevole Fatuzzo onorevole Cantone sì non ce l'ho fatta a non prendere la parola perché io ho ascoltato le cose che ha detto sia il presidente convengo su l'idea che la riduzione non possono essere automatiche e che bisogna premiare le imprese corrette sono obiettivi che l'ANCE ha sempre dichiarato però purtroppo non sempre avviene questo perché malgrado le statistiche dicono che sono diminuiti gli incidenti sul lavoro però non possiamo contentarci del fatto voi lo sapete che in particolare nelle imprese molte imprese artigiane o dove c'è un solo dipendente spesso gli incidenti mortali sul lavoro insomma sono quasi tutti i giorni voi lo sapete insomma avete un primato altissimo e quindi la proposta di cercare attraverso un ruolo dell'INA e nei moderni termini che vengono proposti dalla proposta di legge potrebbe aiutare io penso che siccome voi avete dei buoni uffici studi e siete attrezzatissimi farci avere tutta la documentazione riferita anche ai numeri e ciò che è avvenuto io direi negli ultimi tre anni sia l'onorevole Serracchiani che l'onorevole Epifani per le domande che hanno fatto oltre alla relazione che ci avete mandato ci possono aiutare anche a capire alcune cose secondo me serve lo dico perché le imprese quelle vere quelle corrette devono assolutamente essere premiate una domanda siccome abbiamo parlato di bilateralità che a me sta molto a cuore voi lo lo sapete una una domanda perché non so come siete messi adesso ma i CPT li avete anche in tutti i territori o solo a livello nazionale e regionale perché c'era stato un momento in cui si pensava nei contratti di lavoro di cercare di accorparli se non dimentico a livello regionale però la cosa importante almeno per i CPT che sono quelli che vanno a verificare i piani della sicurezza e fanno gli interventi nei cantieri e che aiutano penso che siano più necessari nei territori a livello provinciale e non centralizzati e i rapporti che hanno con la scuola edile per la formazione perché io penso che sia fondamentale grazie onorevole Cubeddu prego si ringrazio gli auditi ecco il problema dell'individuare la meritevolezza delle aziende è collegato ad una verifica perché la meritevolezza non può essere determinata dal mero fatto che non ci siano degli episodi invalidanti oppure fino ad arrivare alla morte del lavoratore perché può darsi che un'azienda nella quale non si verifichino questi episodi magari in realtà non abbia quegli standard di sicurezza tali da renderla meritevole di benefici e poi questo accertamento di meritevolezza pensate possa essere compiuto solo dall'ispettorato oppure in altro modo ragionare di individuare un altro modo per verificare questa meritevolezza al di là dell'azione ispettiva perché l'azione ispettiva nel corso degli anni è diventata molto complessa anche l'unicità dell'ispezione non è semplice perché il mondo del lavoro e le dinamiche del mondo del lavoro spesso sfuggono alle competenze delle singole realtà ispettive che possa essere l'Inps che possa essere l'ispettorato del lavoro che possa essere la ASL a volte è difficile anche individuare la contrattazione applicabile oppure definire il quadro normativo di riferimento nella fattispecie forse queste questioni possono essere risolte al di là della mera ispezione per andare a individuare il rispetto degli standard di sicurezza intendo grazie la parola agli auditi per le risposte chiederei di essere sintetici perché siamo già oltre il tempo ed eventualmente rispetto alle richieste di dati possiamo anche chiedervi di mandarceli per mail nei prossimi giorni grazie per quanto riguarda i dati li manderemo sicuramente allora parto dall'ultima dall'ultima cioè non è una cosa facile stabilire su quali basi dobbiamo andare a vedere però ci si può lavorare prima io ho parlato dell'asseverazione e forse ho tralasciato ho detto noi e l'Uni i CPT e l'Uni ma l'INA c'era quando abbiamo fatto il processo di asseverazione quando abbiamo fatto il percorso quindi abbiamo lavorato a quattro mani tutti insieme quindi questa collaborazione che collina oggi i CPT hanno i CPT sia regionali non ci sono i CPT regionali onorevole Cantone ci sono i CPT territoriali quindi sono mantenuti e adesso nella successiva riforma che avevamo già fatto comunque sono uniti alle scuole edili quindi collaborano scuola e CPT collaborano insieme quindi si abbina la formazione alla sicurezza poi abbiamo il problema giustamente che l'onorevole ha sollevato però cioè dobbiamo incominciare anche incominciare perché se mai cominciamo su un articolo mai ci riusciamo io volevo solo dire a proposito dei controlli l'onorevole Pifani che noi io ho fatto il presidente del CPT di Milano per qualche anno facevamo 200 visite all'anno siamo arrivati a 7000 non per merito mio per merito di un'organizzazione per merito di un sistema che ci ha messo in condizione di andare quindi abbiamo fatto 7000 visite in cantiere che sono di più di quelle che fa l'ispettorato del lavoro però dobbiamo partire da una cosa dobbiamo avere un censimento per avere accesso al censimento dei cantieri è una cosa molto difficile non dico le difficoltà che ho avuto addirittura avevamo fatto un programma avevamo fatto un investimento importantissimo come il cassetile di Milano eccetera per avere per fare questo e poi la regione aveva fatto se ne era fatto uno per conto suo che comunque è andato bene ugualmente e ha funzionato ugualmente però il problema è la notifica preliminare noi abbiamo una normativa sulla notifica preliminare che io apro il cantiere e faccio la notifica preliminare l'impresa Garanto l'ha fatto la notifica preliminare punto fino alla trasmissione non c'è l'obbligo non è sanzionato le successive notifiche preliminari quindi la presenza cioè la presenza di tutta una serie e questo noi lo diciamo ormai da anni cioè lo diciamo io dico dal 2003 da quando firmai il contratto a Milano territoriale di Milano cioè noi da anni diciamo la notifica preliminare deve essere obbligatoria chiunque entra in cantiere e se l'ispettorato del lavoro allora con il dottor Weber andavamo addirittura quando non era ancora informatico andavamo addirittura a ritirare le notifiche preliminari cioè avevo dovuto firmare per la privacy non mi ricordo quale complicazione c'era stata all'ispettorato del lavoro per avere e avevamo un censimento dei cantieri quindi sapevamo non dico dove andare perché dove andare non è che però siccome abbiamo un censimento e capiamo per non andare tante volte nella stessa parte per non vedere e poi per vedere quali sono le imprese presenti e se correttamente svolgono la cosa certo che poi è difficile e faremo una gran fatica tutti a vedere questa cosa qui quindi il sistema della notifica preliminare che deve stare alla base di tutta questa cosa perché la revisione della notifica preliminare è importantissima e con l'INAI questo non abbiamo battuto ci siamo battuti lo diciamo rispetto al lato del lavoro sono andato al direttore generale gliel'abbiamo detto cioè ormai è una cosa che continuiamo a dire se non mettiamo a posto la notifica preliminare noi la mappatura del cantiere sarò presente sempre solo io qui siamo in 20 e io ho l'obbligo perché non ho le polverini ho l'obbligo di dire e ho fatto la notifica poi chi c'è chi viene viene io non mi sono denunciato ma però nessuno cioè non vengo sanzionato perché non ho detto che venivo quindi questo è il problema fondamentale che noi dobbiamo risolvere poi la collaborazione degli enti non dico che ci devono avvisare dobbiamo fare ma noi facciamo segnalazioni svolgiamo una funzione non dico di controllo perché io sono qui per fare l'interesse delle imprese quindi non dico di controllo però di educazione che purtroppo ci vorrà un po' più di tempo ci impiegheremo un po' più di tempo ma lo dobbiamo fare e su questo abbiamo bisogno dell'aiuto di tutti devo dire che l'Inai in questo ha sempre collaborato poi per il controllo dovremo mettere a fuoco dalle normative ma soprattutto come diceva l'onorevole Cantone cioè abbiamo il problema delle imprese con due dipendenti un dipendente i cantieri di grande dimensione avranno altri problemi però dal punto di vista della carta perché scusate perché poi muoviamo anche tanta carta io ho un collega che sta lavorando in Expo e mi dice io mai visto così tanta carta e quindi a un certo punto arriva un trasporto eccezionale dall'Olanda non entra in cantiere perché l'autista non era stato denunciato una macchina particolare giustamente l'antimafia abbiamo tutto però abbiamo un problema di costruzione di norme che dobbiamo che dobbiamo mettere a regime e sul quale dobbiamo lavorare ed è questo che noi tutte le volte chiediamo poi magari vediamo e diventiamo anche pesanti però cioè ci vuole la nostra collaborazione ci vuole il sistema bilaterale ci vuole cioè noi il sistema bilaterale non è fatto solo da noi è fatto dal sindacato quindi ci sono ambedue gli interessi e quindi su quello dobbiamo dobbiamo continuare a lavorare e per fare questa riforma secondo me dobbiamo andare in quell'ottica lì con l'INAIL che oggi è indirizzata e comunque comprende bene il valore del sistema bilaterale do la parola a lui che molto velocemente perché siamo in ritardo solo per dare il scontro a quelle che sono l'approfondimento relativo alla premialità INAIL allora bisogna entrando in quello che è la nostra memoria ovviamente lì abbiamo fatto un'analisi dettagliata di quello che oggi lamentano le aziende e spieghiamo oggettivamente perché lamentiamo la mancanza degli effetti della riforma tariffaria INAIL uno perché il passaggio dal 130 per mille al 110 per mille così come è previsto per i tassi medi nazionali corrispondono più o meno a un 18,8% di riduzione dei tassi di premialità e questo 18,5% viene praticamente annullato dall'abrogazione di quella norma prevista dalla legge di bilancio 2014 che annualmente riconosceva una media di riduzione che potrebbe essere sul 15% perché ci sono stati anni che era sul 14,60 e anni successivi del 16% quindi questo viene completamente annullato l'edilizia oltre a questa abrogazione della norma trasversale di premialità patisce un'ulteriore abrogazione ed è proprio oggetto di una delle nostre istanze che speriamo possa essere a breve ripristinata come aggiorazione che era lo sconto idile dell'11,50% che è previsto per tutte quelle imprese ovviamente regolari da un punto di vista contributivo che la regolarità contributiva vuol dire molte volte anche avere una regolarità dal punto di vista prevenzionistico di applicazione delle normative sulla sicurezza quindi non andrei diciamo in maniera disgiunta a trattare la partita sulla regolarità contributiva rispetto a quella alla regolarità sulla materia della sicurezza e della prevenzione e quindi l'abrogazione di queste due norme a decorare dal 1 gennaio 2019 ha praticamente annullato gli effetti della riduzione dei tassi medi nazionali quindi l'edilizia ribadisco oltre a quella trasversale ha subito anche l'eliminazione di quella disposizione che da 20 anni riconosceva un 11,50% di riduzione del premio annuale che oggi non c'è più quindi tenete presente ad oggi le imprese l'hanno applicato solo nella parte della regolazione del premio quindi oggi pur avendo avuto la possibilità di usufruirla in regolazione rispetto al 2018 i veri effetti diciamo così contrari della riforma tariffaria ce l'avremo il prossimo anno perché in quel caso non ci sarà neanche in regolazione la riduzione del 15% prevista dalla legge bilancio 2014 quindi il prossimo anno ci aspettiamo molte più conseguenze negative dalla riforma tariffaria l'11,50 è solo dell'edilizia è uno sconto edile industria edile artigiane edile no è solo nostro ed è peraltro autofinanziato quindi non è che chiediamo risorse alla finanza pubblica sono soldi delle imprese che versano nel premio quindi quegli avanzi venivano riconosciuti in premialità quindi auspichiamo di poter riproporre quanto prima un emendamento per cercare di ripristinare per lo meno questa misura geolativa per noi è molto importante direi che la finiamo qui l'audizione anche se è molto interessante perché abbiamo già un ritardo di 15 minuti grazie grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti buongiorno buongiorno chiediamo scusa per il ritardo la commissione è convocata oggi per lo svolgimento di un'audizione informale di rappresentanti di conf servizi nell'ambito dell'esame della proposta di legge C1266 speranza regante modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008 numero 81 e altre disposizioni concernenti la vigilanza in materia di sicurezza sul lavoro e la determinazione dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali avverto che essendone stata fatta richiesta l'audizione informale odierne sarà trasmessa mediante web tv ai sensi della parere dell'aggiunta del regolamento del 26 giugno 2013 a condizione che vi sia il consenso da parte degli interessati non essendovi obiezioni dispongo che la pubblicità dei lavori sia assicurata mediante la web tv della camera dei deputati ricordo che la relazione potrà avere una durata di circa 7 minuti in modo da lasciare spazio per eventuali quesiti dei deputati e per la replica nel ringraziare i nostri ospiti per la loro disponibilità segnalo che la delegazione è composta da Lorenzo Lama area lavoro utilitalia Elisabetta Petrini affari istituzionali utilitalia Nicola Larocca area lavoro Astra cedo quindi la parola credo a Nicola Larocca prego buongiorno a tutti con servizi per quanto riguarda questo progetto di legge esprime un sostanziale apprezzamento verso tale iniziativa legislativa in quanto la prevenzione in materia di salute e sicurezza sul lavoro e gli investimenti e il nuovo ruolo dell'INA e l'implementazione dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro sono tematiche che da sempre sono in linea con gli interessi perseguiti da quelli che sono i nostri settori rappresentati occorre però effettuare delle osservazioni perché ci sono degli interventi mirati che a nostro avviso vanno effettuati al fine di conferire maggiore organicità al provvedimento in itire e che quindi si possa pervenire a un provvedimento definitivo in grado di tutelare al meglio quelli che sono gli interessi dei settori e delle aziende rappresentate seguendo l'articolato del progetto di legge il primo passaggio importante è quello che riguarda il ruolo e l'implementazione del sistema informativo nazionale per la prevenzione è un sistema di recente introduzione e come tale necessita di quello che è un adeguamento operativo al fine di pervenire a una reale messa al regime ci sono state delle difficoltà operative però il progetto di legge in questione cerca di superare questo impasse attraverso quelli che sono sia aspetti formali sia aspetti sostanziali aspetto formale di assoluta rilevanza che viene condiviso è quello riguardante la relazione semestrale che viene fatta dal ministero del lavoro alle camere e questo dà un'impronta di un maggiore controllo che si vuole effettuare nell'ambito di quella che è l'operatività effettiva di questo sistema di prevenzione poi c'è un ruolo che viene conferito alle associazioni però nell'ambito dell'articolo 1 il ruolo delle associazioni viene definito in maniera piuttosto generica quindi sarebbe opportuno precisare qual è il ruolo delle associazioni stesse a nostro parere sarebbe anche importante vista la materia trattata visti i destinatari che sono principalmente i lavoratori e le imprese includere nell'ambito di quelle che sono le attività di questo sistema di prevenzione proprio al fine di conferire maggiore organicità dare un ruolo di effettiva attività a chi lavora sul campo a chi effettivamente vive quelle che sono le problematiche e applica le norme sulla salute e la sicurezza sul lavoro per ragioni sistematiche poi passiamo a quella che è una trattazione congiunta degli articoli due e tre che riguardano gli interventi su vigilanza e consulenza quindi abbiamo un articolato che segue quelle che sono le logiche dell'implementazione del ruolo dell'ispettorato nazionale del lavoro che appunto è un organismo unico e però nell'ambito degli articoli due e tre si evince che comunque c'è una delega espressa su quelle che sono le materie legate soltanto alla sicurezza sul lavoro la sicurezza e la salute sul lavoro tuttavia sarebbe opportuno per dare una maggiore organicità un sistema complesso caratterizzato da unicità di intervento non focalizzato solo sulla salute e la sicurezza sul lavoro perché le stratificazioni normative che si sono prodotte nel corso degli anni proprio attraverso l'introduzione dell'istituto dell'ispettorato nazionale del lavoro dovrebbero essere eliminate e questo ovviamente sarebbe opportuno procedere a quella che è una rivisitazione sistematica proprio della norma in questione poi c'è un altro aspetto che deve essere sottolineato ed è quello che è una possibile stratificazione e sovrapposizione del ruolo tra ispettorato nazionale del lavoro e INAIL ecco sembra quasi che ci sia una sovrapposizione di competenze e di operatività tra questi due soggetti giuridici e secondo noi non è opportuno che ci sia una sovrapposizione non fosse altro che l'ispettorato nazionale del lavoro ha un ruolo chiaramente ispettivo e operativo mentre per quanto riguarda l'INAIL rimane pur sempre un istituto assicurativo quindi ha una valenza più che altro amministrativa lo stesso dicasi per quanto riguarda alcuni aspetti che sono incentrati maggiormente nell'articolo 3 che riguardano quello che è il ruolo più decentrato del ministero sarebbe invece opportuno che il di Castero conservasse una certa supremazia normativa ed operativa per quanto riguarda quella che è l'operatività in essere senza magari andare sempre magari verso l'istituto nazionale contro gli infortuni sul lavoro quindi l'INAIL a conferire una maggiore operatività però perché questo comporta quelle che sono delle difficoltà normative e operative perché sembrerebbe quasi che c'è una commistione tra aspetti di vigilanza che hanno anche connotazioni penali e invece l'INAIL si pone sempre come una situazione squisitamente operativa quindi potrebbe avere delle difficoltà per gestire aspetti che sono di rilevanza penale per quanto riguarda sempre il ruolo dell'INAIL preme sottolineare quello che c'è contenuto nell'articolo 4 del progetto di legge che riguarda appunto l'introduzione dei nuovi criteri di oscillazione qui si esprime dalle perplessità perché pur apprezzando quello che il nuovo l'attenzione sulla sicurezza e sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro non dobbiamo dimenticare che c'è stato già una recente introduzione di un decreto ministeriale che ha introdotto i nuovi sistemi di oscillazione ha cambiato le categorie degli infortuni ed è un sistema che ancora non è entrato a regime quindi prevedere peraltro un sistema che un nuovo sistema quando ci sta un percorso che è ancora in itinere dove peraltro nonostante quello che è un andamento generale infortunistico dei vari settori industriali e non che ha visto una riduzione paradossalmente si assiste a una riduzione degli infortuni ma un incremento dei premi assicurativi poi come si vuole pervenire a questo nuovo sistema si vuole pervenire sicuramente attraverso quella che è un'introduzione magari di nuove tutele a favore delle aziende medio piccole quindi quelle al di sotto dei 50 dipendenti però attraverso un incremento dei premi assicurativi delle aziende più grandi quindi questo comporterebbe a nostro modesto parere quello che è un incremento dei costi peraltro in un sistema che ancora nell'attuale conformazione non ha una effettiva messa a regime perché è stato appunto di recente introduzione per quanto riguarda le nuove assunzioni degli ispettori pur condividendo il ruolo di assoluto rilievo dell'addetto ai servizi ispettivi le risorse che verrebbero destinate a quello che è l'implementazione degli organici dell'attività ispettiva del ministero del lavoro e delle politiche sociali nonché dell'Inel e di tutto il sistema vede l'impiego di ulteriori risorse che potrebbero essere destinate per altri scopi basta ricordare ad esempio che l'ultima legge di bilancio ha già previsto quelli che sono degli incrementi per quanto riguarda gli organici del personale ispettivo appunto per quanto riguarda diciamo noi abbiamo anche alcune osservazioni meglio ancora alcune proposte da effettuare perché possiamo avere un miglior impatto sul contesto delle attività che riguardano la salute e la sicurezza sul lavoro sia sotto il profilo preventivo che sotto il profilo dell'operatività diciamo gestionale attraverso quelle che sono delle tematiche che si trascinano da un po' di tempo cioè sarebbe più opportuno a nostro avviso dare attuazione a quelli che sono dei provvedimenti attuativi che sono tuttora pendenti perché sono legati a quella che è la emanazione del decreto legislativo 81 del 2008 quindi il testo unico della sicurezza pur ormai vigente da più di un decennio ancora necessita di provvedimenti attuativi che si sono trascinati nel corso degli anni però non sono non sono stati di fatto resi effettivi inoltre possiamo anche considerare quella che è una valorizzazione una valorizzazione della formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro perché basta ricordare che ci sono degli accordi interconfederali dove viene valorizzato il ruolo della formazione della sicurezza in materia di salute e sicurezza sul lavoro chiedo scusa e quindi ci sono degli accordi interconfederali del 2011 e 2016 che sono stati in un certo senso applicati e quindi andrebbero effettivamente messi a regime e poi c'è anche una possibile sto finendo sto completando dunque un ultimo aspetto riguarda quella che è la rivisitazione del ruolo della sorveglianza sanitaria attraverso un'azione di maggiore efficacia operativa anche attraverso il ruolo rivisitato del medico competente ho completato grazie grazie a lei ci sono domande da parte dei commissari no direi che siete stati ampiamente esaustivi grazie grazie a voi buona giornata